Ciao, oggi vi mostrerò uno dei miei tanti acquisti fatti in profumeria. E questa sarà un'occasione per parlare un po' della mia passione per il make-up ed in particolare per gli ombretti. Come probabilmente avrete già capito, uno dei miei negozi preferiti è proprio la profumeria. Compro spesso sia in negozio personalmente sia online. In questo caso il cofanetto che sto per mostrarvi contiene una splendida varietà di ombretti della mia marca preferita per quanto riguarda il make-up. Si tratta di Make Up For Ever. Un rumore sbocciato ormai diversi anni fa quando in cerca di un rossetto perfetto e dalla lunga tenuta una commessa mi propose di provare proprio quello di Make Up For Ever. E da lì, trovatemi benissimo, iniziai a provare tutti gli altri prodotti di Make Up For Ever. Dalla matita per le labbra al mascara, dal fart alla base per gli occhi, dalla crema viso agli ombretti, eccetera, eccetera. Ma parliamo di questo cofanetto, fatto mio, appena visto in negozio. Devo dire che mi attraggono molto le confezioni speciali, tipo questa, edizione limitata mi sembra. Per di più, in questo caso, se si tratta della mia marca preferita, sì, adoro fare shopping, moltissimo. Le cose che acquisto maggiormente sono infatti smalti e prodotti di make-up. Grazie a tutti. Ecco, intanto, dall'immagine che potete vedere raffigurata nella scatola, vi fate un'idea di com'è il cofanetto all'interno. Ma andiamo ad aprirlo e scopriamolo insieme. Grazie a tutti. 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 Trovo questa superficie assai liscia e levigata, un piacere da toccare. E ovviamente si presta molto bene al tapping, così come questa targhetta di metallo, tapping e scratching. Con queste scrittine un po' ingavate e un po' in rilievo, mi piace molto. Ecco, tolgo subito la velina. E sì, te, ovviamente ci gioco un po'. Lo faccio sempre con qualsiasi cosa nuova. Mi piace scartocciare queste piccole veline trasparenti. Il logo di questo marchio lo trovo adorabile, delle seducenti labbra rosse che tengono un finissimo pennellino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adoro toccare e lisciare questa superficie, così delicata. Mi rilassa molto. Anche sentirne il suono che ne viene fuori. Sì, starei ora così. Ok, adesso la apro. Beh, direi che è un cuffanetto veramente ben fatto e dettagliato. fin dei più piccoli particolari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma anche questa plastica è adattissima per l'SMR. non so se piace anche a voi, ma io adoro strusciarla così sul palmo. che sensazione piace anche per il tapping non è niente male. E anche per il tapping non è niente male. Grazie a tutti. 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 ecco questo velino mi ha dato più soddisfazione a toglierla ben piccolata il piccolo specchio ha fatto un po' di rumori in più ed ecco che anche con lei mi diverto a stropicciarla e ad accartacciarla tutta vi dà fastidio quando l'unghia stridi leggermente graffiando lo specchio un po' come l'effetto del gesso sulla lavagna ecco a me solo un pochino ma non è del tutto spiacevole anzi ricordo che quando ero più piccola mi dava molto più fastidio così come mi dava fastidio limare le unghie e sentire quel suonino acuto un po' irritante ora invece questi sono tutti suoni che trovo tutt'altro che antipatici ecco il tapping è uno dei miei trigger preferiti immagino l'avevate capito da tempo se questo non è il primo mio video che guardate un pennello fondamentale per stendere bene l'ombretto anche se a me uno non basta mai solitamente ne uso due con setole della forma diversa ecco i pennellini non li compro di make up forever perché li trovo eccessivamente troppo costosi queste sedole sono morbidissime che bello passarsi questo piccolo pennellino sul palmo della mano mi rilassa davvero tanto anche a voi fa lo stesso effetto ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E l'altra per un effetto smoky, ben più accattivante, nella sua variante più accetonata, nero, grigio e bianco. Veramente, veramente carino. Ecco che richiudo il cofanetto. Ancora un po' di tapping e un leggerissimo scratching. Poi ripongo il tutto nella scatola. Grazie a tutti. Grazie. 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 Spero vi sia piaciuto tutto di questo video. Per me è stato un piacere mostrarvi questo piccolo acquisto e sussurrarvi durante il video. a presto e ancora grazie a tutti ciao